No, no, che rompiscatole! Oddio! 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 Da quanto tempo! E mi sei mancato! Anche tu tanto! Quando è stata l'ultima volta? Lo scorso natale in New York, non te lo ricordi? Come no! Mi hai regalato per i bellissimi... Due pochini! Che erano due oltre due oltre due oltre E quando è stata l'ultima volta che hai suonato per me? Ah, un po' di tempo fa a Melbourne Oddio! Non è andato tanto bene a Melbourne No! Per niente! Non è andato bene? Hai già conosciuto il mio fidanzato? Sì, ci siamo parlati al telefono E' una cosa molto bella che ti sia mai cantata E' il direttore della tele... E' Rossby? Sei Rossby? No, dici che è Rossby E' uguale! Diggi che mi butta! E' che lui è un figlio di bruttana! Ha detto che si butta! E tu sei un figlio di bruttana! Aaaaaaah! Adesso si sta cacando! Ma che cosa sta succedendo? Quella specie di sottospecie umana che dirige questa stamperica ha minacciato di cacciarli Oh! E' quello che? Perché è uno strozzo! Questa settimana non abbiamo ancora pagato il conto Oh! Strozzo! Hai rispettato che non mi stai cacciando Come ti permetti di minacciarmi? Devi aspettare come chiunque altro per avere i tuoi soldi Che cosa che ti rende tanto speciale da voler scavalcare la fila? Non me ne frega niente dei giornalisti che sono giù nel lavoro Hai provato a pensare a quello che succederà al tuo albergo Quando la piccola Dorothy del Maglio di Oz Sarà spiaccicata sul tappeto rosso del Poincresso? E non credere che non lo faccia! Sono talmente arrabbiata che potrei fare questo ed altro! Qualcuno potrebbe farlo spiegare che non dobbiamo... Ma non molto, vero? Non molto! Hai appena minacciato di buttarti dalla finestra! Stavo solo negoziando! C'era un problema con il conto! Credevo avessi un paio d'anni! Anch'io lo credevo, ma non molto! Un background! Sì! E' un bellissimo! The stage, the stage is a world of entertainment! Siamo tutti spaventati. Attraversiamo la vita come dei bambini, al lavoro e nelle relazioni. Tutta questa cosa di essere adulti è un totale miraggio. Fingiamo, tutti. Non sei la sola ad avere paura. L'unica cosa che possiamo fare è trovare qualcuno con cui stare che sia meno spaventato di noi. E se non ci siano solo se non ci siano solo